Ancora violenza in carcere, due giovani agenti di polizia penitenziaria sono stati costretti a ricorrere alle cure dei medici dopo essere stati vittime dell'ennesimo caso di violenza all'interno della casa circondariale di Bellizzi Irpino. Un detenuto con una definitiva a 30 anni per gravissimi reati ha colpito di uomini in servizio con calci, schiaffi e sputi, mentre i due agenti tentavano di non farlo uscire dalla sezione dove si trova recluso. Gli agenti sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino i cui medici li hanno dimessi dopo una prognosi di 7 e 4 giorni. Non è la prima volta che il detenuto commette atti violenti, riferisce il consigliere nazionale dell'OSAP. Emilio Fattorello e il segretario generale Beneduce nei giorni scorsi hanno denunciato per l'ennesima volta le criticità che si vivono all'interno dell'istituto di pena del capoluguirpino che tra l'altro il garante regionale ha presentato nella sua redazione semestrale come istituto la cui realtà è critica. Da tempo l'OSAP ha denunciato anche al ministero le difficoltà che si vivono nel carcere di Avellino dove da anni si verificano episodi di violenza e non solo droga e telefonini periodicamente e frequentemente vengono scoperti nelle celle o negli spazi comuni. Una situazione non più sostenibile ribadisce l'OSAP rispetto alla quale è necessario intervenire quanto prima.